Saggio di fine anno per l'Accademia Musicale Lizard, che presso la sede di Foggia ha visto esibirsi gli allievi provenienti dalle varie sedi della provincia. Una serata dedicata al talento dei giovani allievi, che attraverso l'insegnamento profuso da uno staff di docenti altamente qualificati, diretti dal maestro Paolo Monaco e composto dagli insegnanti Giuseppe Fabrizio, Gianni Dechellis, Raffaella Porciatti, Luigi Pelicano, Patrizio Campanile, Stefano Centra, Guido Longo e della coordinatrice Agatha Marseglia, Nonostante la giovanità degli allievi, il talento di cantanti, pianisti, chitarristi e batteristi ha intrattenuto il numeroso pubblico, che nonostante il caldo, ha seguito con interesse e partecipazione l'evento. L'Accademia è presente in diverse sedi in provincia di Foggia, come Manfredonia, Ortanova, Stornarella, Stornara, Castelluccio dei Sauri e Bovino. Soddisfatto a margine dell'evento, il responsabile provinciale Paolo Monaco. È un appuntamento ormai costante, siamo partiti quindi un po' di anni fa, eravamo partiti praticamente con sole tre sedi e presto si sono trasformate, si sono raddoppiate. La sede centrale appunto qui Foggia, in Viaggio Berti, ci ospita la sede appunto dell'Istituto Canossiano, l'Istituto appunto Concettina Figliolia. E che dire, è sempre un'emozione vedere poi il lavoro svolto durante l'anno e quindi siamo molto sempre contenti, soddisfatti anche dei nostri ragazzi. Credo siate soddisfatti anche dei risultati, perché nonostante la giovane età abbiamo ascoltato davvero dei bravi talenti. Sì, abbiamo avuto modo di ascoltare sia le classi appunto di pianoforte, canto, chitarra, basso, sia appunto bambini che adolescenti e ragazzi anche un po' più grandicelli. Il nostro lavoro alla fine poi è premiato proprio da questi obiettivi che poi abbiamo modo di vedere durante l'esibizione di fine anno, che pian piano si trasforma sempre di più in un vero e proprio concerto spettacolo. Grazie.